Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Katia Follesa ha lasciato tutti senza parole dopo aver annunciato questa novità. Come l'avrà presa la sua famiglia? La comica e conduttrice televisiva Katia Follesa, per anni ha rivestito il ruolo di presentatrice tv in diverse occasioni. Ottenendo un consenso da parte del pubblico molto ampio. Complice anche la sua partecipazione nel 2021 al comedy show lol chi ride fuori. Silenzio sui social a parte. Oggi Katia Follesa è tornata alla ribalta con un annuncio che ha dell'incredibile e che la vedrebbe vivere all'estero per molto tempo. Sorprendente la reazione del figlio in questo caso. Odore di fiori d'arancio? Vista la grande novità che riguarda Katia Follesa, alcuni follower hanno messo avanzato l'ipotesi di vederli finalmente con volare a nozze. Per quanto possa essere assurdo, in una recente intervista, ha dichiarato. Io sono sposata con me stessa. Non sa da fare. Quanto alla famigerata richiesta di matrimonio. Ecco come sono andate le cose. Angelo Pisani mi ha fatto una proposta fighissima. Con un quaderno e un anello. La notte di Natale. Da lì ad organizzare un matrimonio. Ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato. Poi ho capito che era meglio di no. Gli anelli che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io. La reazione di Angelo Pisani. Pubblicato il post che vedete al centro della pagina. Angelo Pisani, compagno di Katia Follesa ha subito reagito alla notizia. Con la stessa immagine e trattandosi del cartellone per lo spettacolo anche Pisani ha voluto comunicare ai suoi follower il sogno di portare a New York, lo spettacolo creato insieme alla sua compagna di vita e madre della dolce Agatha. Se qualcuno il 9 ottobre dovesse passare da New York, vi volevo informare che io e la super bionda Katioska saremo lì. Dove saremo esattamente? Tenetevi forte. Fatto? Ve lo dico. Carnegie Hall. A fare cosa? Il nostro spettacolo. Chissà cosa accadrà in futuro a questo duo comico super diventente. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.